Ben trovati da Nico Schiodetta, un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, situazione per la giornata di sabato sul vecchio continente con una tempesta di vento che investirà tutte le isole britanniche, la Scandinavia ed il mare del nord, sull'Italia una blanda perturbazione sarà in lento movimento dal centro-sud Italia verso la Grecia, verso lo Ionio, pochi gli effetti. Ecco qui delle infiltrazioni di aria umida che determineranno un po' di variabilità, qualche nuvolamento irregolare al centro-sud, isolate gocce di pioggia, qua e là in alcuni settori del centro Italia e del sud, al nord invece subito rimonta l'alta pressione, sempre molto invandente tra la Spagna e la penisola iberica, ancora abbraccerà l'Italia nei prossimi giorni, prossima settimana che sarà sempre con questo dominio anticiclonico. Al nord Italia, a bel tempo, tornerà qualche foschia o nebbia di notte, un po' di variabilità di nubi irregolari al centro-sud e osservate qualche isolata goccia di pioggia possibile, specie in mattinata. Dettagli maggiori, approfondimenti, scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.